Si sono presentati questa mattina con una conferenza stampa i candidati appartenenti al collegio pesarese della lista civica Movimento per le Marche, che nelle prossime elezioni regionali supporterà la candidatura a governatore di Francesco Acquaroli. Sette le personalità che hanno deciso di scendere in campo con questa nuova realtà. Bruno Barbieri, Lorenzo Tempesta, Barbara Battisti, Eloisa Ferri, Anna Maria Marinai, Paolo Pedretti e Mauro Ruggeri. I programmi sono stati dettati dalle criticità che abbiamo riscontrato sul territorio e le criticità sono sotto gli occhi di tutti. Quindi prima di tutto abbiamo la sanità con tutte le scelte sbagliate che sono state fatte negli ultimi tempi, in particolare dall'attuale gestione, dall'attuale governo regionale, per non parlare poi delle scelte scelerate che sono state fatte relativamente alla decisione di costruire un ospedale unico provinciale a Fosso Seore, in una zona assolutamente irraggiungibile. E poi l'altra decisione appunto di spostare la realizzazione di questo ospedale da Fosso Seore a Muraglia, cadendo dalla padella alla braccia proprio perché a Muraglia a tutt'oggi non ci sono strade neanche per soddisfare le attuali esigenze. Quindi figuriamoci cosa succederebbe domani con un eventuale ospedale. Poi le altre problematiche sono quelle relative al territorio, al terremoto, certo è un argomento che qui a Pesaro ci interessa, ci tocca relativamente, però siamo molto sensibili ai disagi che stanno vivendo e alle persone che purtroppo hanno avuto questa disgrazia. Per non parlare poi delle problematiche relative all'entroterra e in particolare allo spopolamento dell'entroterra e con la necessità della popolazione di spostarsi verso la costa alla ricerca di strutture, di servizi, di ospedali eccetera che sciaguratamente sono stati chiusi nell'entroterra. Tra le tematiche previste nel programma della lista, un punto importante riguarda la scuola, grazie anche alla candidatura della dirigente dell'Istituto Benelli, Anna Maria Marinai. Credo nei temi di questa lista, credo in questo progetto, che come diceva l'Avvocato Barbieri è nato molto prima delle elezioni, nel senso è nato come comitato, come comitato civico, perché noi siamo veramente dei civici puri. La scuola marchigiana ha bisogno di una programmazione, di una rete scolastica più equa, come dicevo che dia pari opportunità a tutte le studentesse e tutti gli studenti, di mettere quindi al centro delle politiche appunto la scuola e con queste quindi programmare le risorse che la regione ha a disposizione, sia che siano statali, sia che siano proprio regionali, ma soprattutto i fondi europei, appunto in maniera diciamo efficace e lungimirante. Lungimirante perché, ripeto, è il futuro, la scuola è il futuro.